Ciao ragazzi, all'interno di questo video vi racconto la mia giornata tipo in 5 minuti Ciao madre, buongiorno a tutti, è ora di preparare i tavoli Ascolta c'è una spugna Sono bagnati al centro e si bagnano tutte le tovaglie Ok, tavole pronte, non posso urlare troppo forte perché sono tutti a letto ancora Adesso colazione veloce Allora adesso devo fare delle cose un po' tecniche al pc, insomma inviare i dati dei nominativi e tutto quanto Che non posso farvi vedere Quindi adesso spegniamo la GoPro, torniamo con il timelapse Abbiamo servito tutte le colazioni, dobbiamo aspettare un attimino e poi sparichiamo i tavoli Finito i minagri, adesso si va a casa a mangiare Oggi uova è becco Allora ragazzi, ho messo sotto carica la GoPro, intanto mi sono riposato un attimo E mentre ho anche editato un video che dovrà uscire domani e adesso vado a bere il coffee Il pomeriggio poi facciamo diversi lavori in base al periodo in cui ci troviamo Qualche lavoretto nell'orto, a volte andiamo a estirpare colantares A volte veniamo nei vigneti a tagliare l'erba Utilizziamo la spollonatrice, utilizziamo la cimatrice E poi facciamo altri lavori per esempio come la manutenzione dei trattori eccetera eccetera Qualche serata poi durante il periodo estivo andiamo a suonare con la band che si chiama Sky & Streets Facciamo qualche concerto ogni tanto Adesso vi rimando alla serata di qualche settimana fa dove siamo andati a suonare alla Zise Così vi faccio vedere la preparazione del live e anche vi metto qualche clip del concerto Ho già preparato la macchina che adesso devo riempire con tutta l'attrezzatura Una parte insomma dell'attrezzatura che utilizzeremo L'altra parte la portano gli altri Devo tirare giù i sedili Se no non ci stanno le cose Sono un po' in ritardo dovevo essere dal batterista a 10 alle 6 ma ormai è distrutta Macchina da battaglia ma che va bene perché è molto spazioso all'interno ci stanno tante robe Va bene adesso non perdiamo altro tempo e partiamo con il timelapse Partiamo Ah via via eh Eccola Ciao Marco Tutto bene tu? Ah bella Ora io ti darei due robe Ah ti tratti bene con la musica Ho caricato tutto e adesso si parte per la Zise Ok sono arrivato noi suoniamo nella piazzetta qui di fianco Ciao David Allora è arrivato l'altro chitarrista Bisogna tirare giù tutto e portarlo là E dopo iniziare a montare Ok ragazzi allora adesso c'è un po' di lavoro da fare quindi faccio un bel timelapse da qua del montaggio del palco E noi ci vediamo dopo Avanti avanti Vedete ragazzi allora qua c'è Nicola Che regola tutti i volumi attraverso un tablet La tecnologia di oggi Ciao Dagli una rullata potente Questo è il mixer Allora lui è il cantante Forse faccio il video Vediamo se viene bene Forse se lo fai lo fai Allora ragazzi dovete sapere che prima del concerto Bisogna fare il sound check ovvero sentire come sono i volumi di tutto Prima abbiamo fatto la batteria al basso con le chitarre Adesso dobbiamo mettere la voce Allora adesso vi faccio vedere tutto Qui ci sono le luci Questi qui sono delle macchine del fumo potenti Questi qua invece sono le teste mobili Ovvero che si muovono in pratica Questo è l'impiantino Che forse è troppo potente per questo posto Forse decisamente è troppo potente E oltre a quelle c'è anche una macchina del fumo là dietro Comando io qua Adesso dovrebbe andare Eccola là Eccolo Bassman pizzaiolo Ok ragazzi Qua abbiamo finito Adesso si smonta tutto La parte più bella o no? Bello Finito tutto Cosa devo dire? Va bene ragazzi Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Zappate un like Zappate un like Iscrivetevi al canale Prima zappate un like Va bene aspetta Va bene ragazzi Allora se questo video vi è piaciuto Zappate un like Mettetevi caccia a questo No Zappate un like Iscrivetevi al canale Attivate la campagna delle notifiche Addirittura Addirittura attivate la campagna delle notifiche E noi ci vediamo Alla prossima puntata Ciao Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata